ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi voglio fare un semplicissimo video di tablet e è sera e sono molto 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 rilassata quindi mi andavo proprio di girare questo video oggi ho tantissimi accetti non so se riuscirò a utilizzarli tutti faremo delle inquadrature anche un po' più close up per concentrarsi sui suoni quindi per un punto non è un video uno tocchi è un video comunque un minimo 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 parlato ho approfittato del fatto che le uniche sono un po' più corte per farvi ascoltare un gioco è un po' diverso quindi cominciamo subito con il primo di tutto che è con il manzo di carte queste sono le carte da bridge la B dice ramino o ramino tasca e la 40 che è un po' più corte quale gioco mi piace di più? a me piace molto queste carte non so se sentiate che rispetto al solito tapping questo è un po' più o come suono un po' più basso come suono se vedi che dico suoni con la o suoni con la i invece quello con le uniche che è più sulla i è un po' più accuto è un po' più 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 questa spazzola e voglio fare un po' di tapping sul legno perdonate se la qualità non sarà altissima appunto è sera e ho solo una luce qui con me soprattutto ora è un po' che si vedessero le lucine dietro di me qui siete nel mio solotto ma penso che arriverà un home tour quindi lo scopriamo come l'auto spazzola Grazie a tutti. 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 Vi piace a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cinque giochi. Grazie a tutti. penso a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. una... una... buona... 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 buona...